Una familiare, confortevole e tecnologica dal look moderno, la quinta generazione di Hyundai Santa Fe che è qui dietro di noi è un'evoluzione, una rottura totale con le versioni precedenti del SUV di segmento D del marchio coreano. Un'evoluzione appunto sì dal punto di vista del design come potete vedere ma anche da quello dei contenuti. Oggi la proviamo in anteprima ma prima di raccontarvi le impressioni di guida andiamo a dare un'occhiata più da vicino a come è cambiata con la quinta generazione la nuova Hyundai Santa Fe. E appunto vi parlavamo dello stile, del design ma partiamo prima dalle dimensioni. Sì perché la nuova Hyundai Santa Fe non è cresciuta di tanto ma comunque c'è una piccola differenza ricavata anche e in particolare grazie a quelli che sono gli sbalzi ridotti come potete vedere dalla vista laterale. La lunghezza è di 4 metri e 83 pochi centimetri in più rispetto al passato mentre il passo è di 2 metri e 81 per un'altezza di 1 metro e 73 e una larghezza di circa 1 metro e 90. Appunto sono stati ridotti gli sbalzi con le ruote che sono state spinte al limite del pianale mentre lo stile è molto distintivo già nella firma ottica al frontale con questa firma luminosa a forma di H che richiama appunto il marchio di Hyundai. Con questo fascione centrale con la trama a nido d'ape sovrastato dal logo del brand e un tema d'acca che ritorna anche nel paraurti nella parte bassa come potete vedere dove trova posto anche la targa. Da lì sotto invece ci sono dei flap aerodinamici che vanno a contribuire a quello che è un CX di 0,29 un risultato davvero molto interessante per una vettura di queste dimensioni mentre sulla vista laterale c'è un alleggerimento di quello che è il design grazie anche ad un tetto sospeso molto molto caratteristico è un montante C molto importante che va anche a sottolineare quello che è le forme massicce di questo modello con questi passaruota invece che a contrasto vanno ad abbracciare cerchi che vanno da 18 a 20 pollici passando invece al posteriore c'è una delle grandi novità vale a dire il portellone piatto dove ritroviamo appunto quella che è la firma luminosa ad H nella parte bassa con quest'ultime fanalature che sono state spinte più in basso appunto per garantire anche un'apertura maggiore del portellone che ora vi facciamo vedere qui invece ritroviamo poi ovviamente il lettering del modello si apre in maniera elettro attuata e va a restituirci uno spazio di carico di 711 litri che possono diventare 2032 addirittura abbattendo le sedute della seconda fila con la divisione 6040 ma qui su questa versione ci sono anche le altre due sedute perché vi ricordiamo Hyundai Santa Fe disponibile in due versioni da 5 e da 7 posti con la possibilità appunto di avere per chi siede anche nella terza fila tutte le comodità dai portabibiti ovviamente alle prese usbc e anche la 220 oltre alla regolazione del clima per offrire appunto anche ai passeggeri posteriori tutti quelli che sono gli elementi di comodità per un viaggio più che confortevole il comfort appunto viene espresso anche all'interno dove c'è un'altra importante novità tante altre importanti novità dal punto di vista del design appunto dietro al volante che debutta anche sulla quinta generazione di Hyundai Santa Fe il Panoramic Surround Monitor che integra due schermi entrambi da 12,3 pollici per il sistema di infotainment appunto e ovviamente per il quadro strumenti digitale poi c'è un altro schermo qui sotto da 6,6 pollici invece per la regolazione della climatizzazione e con alcuni pulsanti anche per l'intrattenimento musicale che tra l'altro su questa versione con il pacchetto Calligraphy è Bose a 12 altoparlanti mentre la console centrale che è stata rivista offre ovviamente la possibilità di caricare la smartphone con l'USB-C ci sono anche le sedute raffreddate e riscaldate mentre qui ci sono due piastre per l'alloggiamento dello smartphone e per la sua ricarica ovviamente a induzione qui invece c'è un'altra importante novità vale a dire un alloggiamento UVC per la sterilizzazione di materiali quindi un elemento che è stato pensato nel 2020 quando appunto la pandemia era in corso e che offre una possibilità di sanificazione ulteriore per chi utilizza la vettura ci spostiamo ora ovviamente prima di spostarci al posteriore un secondo solo vi facciamo vedere che anche in questo caso la leva selettrice delle modalità di marcia è stata posizionata direttamente sul piantone dello sterzo come su tutti gli ultimi modelli del brand coreano sul pacchetto Calligraphy poi un'altra cosa disponibile è l'ed-up display mentre passando al posteriore vi facciamo vedere la seconda fila dove adesso noi abbiamo tirato indietro il sedile anteriore ma c'è davvero tanto spazio ricavato appunto da quelle piccole differenze di dimensioni ma soprattutto per un ridisegnamento di quelli che sono gli spazi a bordo con 69 mm in più per la testa e 35 mm in più per le gambe per chi siede nella seconda fila ma anche per chi siede nella terza fila che adesso è chiusa c'è la possibilità di avere addirittura 15 mm in più rispetto al passato entrando poi all'interno vi facciamo vedere che anche qui c'è tutta la regolazione dei sedili per il massimo dell'ergonomia e la possibilità anche per chi siede dietro di avere le prese USB-C ma la novità più interessante è senza dubbio quella che riguarda la console centrale dove c'è la possibilità di avere un vano bidirezionale in modo che anche chi sta dietro possa usufruire dello spazio appieno andando a stivare ciò che gli serve in modo molto pratico l'offerta delle motorizzazioni di nuova Hyundai Santa Fe è molto semplice al momento è disponibile soltanto il full hybrid in un secondo momento poi verrà introdotta anche una powertrain plug-in hybrid ma ad oggi è disponibile appunto soltanto la versione HEV per una motivazione ben precisa vale a dire che l'analisi di mercato portata avanti dal marchio coreano ha sottolineato come il segmento di generalista stia crescendo sempre di più appunto su questa motorizzazione elettrificata e la volontà del brand è quella di spingere sempre di più su questa soluzione nonostante comunque il diesel rimanga una fetta di mercato importante il gasolio appunto su questa vettura non verrà offerto e per questo momento ci troviamo al volante della versione full hybrid che sfrutta un motore 1.6 TGDI da 215 CV di potenza complessiva frutto dell'unione di un 4 cilindri da 160 CV ed in unità elettrica da 62 CV per 265 Nm di coppia che offrono una velocità massima di 180 km orari e uno scatto da 0 a 100 che si consuma in 9,6 secondi per la versione a trazione anteriore e 9,8 secondi invece per la versione a trazione integrale H-Track in ogni caso abbinato a questa powertrain full hybrid c'è un cambio automatico a 6 marce il brand coreano ha lavorato innanzitutto sul comfort come vi anticipavamo in precedenza anche per quel che riguarda ovviamente le sensazioni di guida quindi c'è un'ottima insonorizzazione dell'abitacolo sia per quel che riguarda il rotolamento degli pneumatici sia per quel che riguarda ovviamente il propulsore che anche quando si va a premere un po' più con il piede sull'acceleratore offre un'ottima spinta, un'ottima brillantezza ma non va a riempire l'abitacolo di un rumore fastidioso ovviamente sono stati migliorati anche i pannelli fonoassorbenti e tutto quello che riguarda anche le guarnizioni andando a rendere così la guida a velocità di crociera davvero piacevole c'è sempre poi l'ergonomia della seduta una posizione di guida ottimale, regolabile in tutte le direzioni per mettere a proprio agio chi si trova al volante con gli ingomberi di questa vettura e poi come su ogni Hyundai il pacchetto Smart Sense delle features di sicurezza e di assistenza alla guida che è sempre molto completo c'è il cruise control adattivo il sistema di mantenimento della corsia la frenata automatica di emergenza che è stata ulteriormente migliorata c'è anche un sistema smart per la frenata rigenerativa che funziona ovviamente con la navigazione attivata che consente di andare a regolare l'intervento del propulsore endotermico e di quello elettrico massimizzando così l'efficienza di marcia e la rigenerazione in fase di rilascio e di frenata per quel che riguarda la batteria di supporto del sistema full hybrid per il resto il volante lo sterzo è molto leggero e reattivo consente di manovrare molto bene anche quando si affrontano le curve in maniera più brillante tra l'altro noi stiamo utilizzando la vettura su un misto collinare e nelle langhe appunto con percorsi ricchi di curve e dobbiamo dire che la comodità e la praticità di utilizzo di hyundai santa fe nonostante gli ingombri nonostante le dimensioni è davvero ottimale Ottima poi è anche la visibilità a merito delle ampie vetrature lungo le fiancate ma anche con i sottili montanti anteriori consentendo così di avere un'ottima visibilità ma allo stesso tempo anche un'ottima illuminazione naturale all'interno dell'abitacolo buona poi anche la percezione materica con rifiniture soft touch per quel che riguarda parte degli interni delle portiere un giusto mix con le plastiche rigide che non vanno a scricchiolare e quindi contribuiscono a quel comfort acustico di cui vi parlavamo in precedenza nel complesso dunque con hyundai santa fe nel complesso dunque con questa quinta generazione di hyundai santa fe il marchio coreano ha fatto un ulteriore passo in avanti rafforzando un modello storico che in 24 anni di onorata carriera ha offerto al mercato una certezza una certezza appunto che il marchio coreano ha voluto ulteriormente sottolineare con questa rinnovata versione all'insegna di tecnologia praticità e ovviamente comfort dal suo debutto al salone di ginevra nel 2000 la hyundai santa fe ha fatto tanta strada e forse dopo un periodo di stallo con l'ultima generazione con questa con la nuova versione che abbiamo provato noi oggi il marchio coreano vuole dare una decisa scossa al segmento di grazie ad un'offerta semplice allo stesso tempo completa l'offerta appunto che per l'italia si basa su due allestimenti business e x class con il prezzo che parte da 49.600 euro per la business con trazione anteriore e parte invece da 54.350 euro per la x class grazie a tutti riflessore